Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning In questo nuovo video andrò a fare un unboxing veramente speciale Sono strafelice In quanto potete già notare insomma dalla grandezza del pacco Inoltre sono due colli Speditomi da linaoriginale.it E ho fatto questo acquisto, questo upgrade alla macchina E mi sono rivolto ovviamente al mio fornitore di fiducia Che mi ha fornito quello che tra poco andrete a vedere Quindi ragazzi io senza dilungarmi troppo Poi dopo verso la fine faremo, trarremo le nostre conclusioni Direi intro e cominciamo con l'unboxing Siamo pronti quindi a partire con l'unboxing Di questo pacco enorme Stavo veramente smaniando Cioè non ce la facevo Era veramente tanto tempo che aspettavo di fare questo upgrade alla macchina Ragazzi e finalmente dopo aver messo da parte soldi E aver fatto le modifiche di base Sono passato a quelle meccaniche Ecco e quindi sono strafelice E veramente quello che vedrete in questo video è assurdo Ragazzi che dire Questo è tutto quello che ho tirato fuori Molle e i bacch e assetto coni special active Questi che sto unboxando in questo momento sono gli steli posteriori Veramente è un assetto di fattura ottima E ho deciso di fare questo Di mettere questo assetto Perché non andando in pista E abitando a Roma Ho sentito pareri sul Coni Street Di persone che si lamentano parecchio per la rigidità E che a Roma comunque con tutte le buche Le asperità stradali diventa un macello Quindi che dire Io avevo già il Coni FSD sotto Dico vabbè sono arrivati Li cambio E metto qualcosa di aggiornato Perché la versione special active ragazzi Ha lo stesso meccanismo dei Coni FSD Soltanto che sono una versione più recente Leggermente più aggiornata E si effettivamente cambia soltanto il nome Però il sistema è quello Un sistema veramente particolare In quanto i Coni Special Active Praticamente cosa hanno di bello Come anche i Coni FSD Che hanno un bilanciamento ideale Tra taratura e comfort della vettura Hanno questo sistema di smorzativo selettivo Che è in base alla frequenza Ovvero a seconda della frequenza che emana l'asfalto L'asperità entra in funzione Un olio diverso Un'ammortizzazione diversa Un assorbimento diverso Un comportamento diverso Dello stelo Dell'ammortizzatore Quindi ovviamente questa tecnologia È veramente pazzesca Non è elettronica Ma è puramente naturale Che altro dire ragazzi È veramente qualcosa di assurdo Appunto ho copiato queste molle E i batch meno 3 Per garantire una rigidità un po' più forte E un abbassamento della vettura Quindi io penso che abbia fatto la scelta migliore Tra comfort e sportività Se abitate in zone con asfalto disconnesso Ve la consiglio Quindi niente ragazzi Questo è tutto Partiamo con le conclusioni Ok ragazzi Avete quindi visto questo grande unboxing Veramente un sacco di cose Un sacco di cose importanti per la mia macchina E vi consiglio anche a voi Di cambiare l'assetto della vostra Se siete dei veri sportivi E appassionati di tuning E veramente rende la macchina In una maniera paurosamente Più bella e sportiveggiante Lo vedremo più avanti Quando sarà montato E inoltre Non posso montarlo subito Perché mi mancano i supporti ammortizzatori Anteriori I parapolvere posteriori E i tamponi di fine corsa Che ho acquistato Separatamente In quanto sono una cosa Che non è compresa In questa cosa Quindi è una cosa mia Li voglio cambiare Perché a questo punto Già che ci sto Rinnovo tutto E spero vivamente Di avere un assetto totalmente diverso Questo è quello che mi aspetto E ovviamente farò La recensione Le mie impressioni Le mie riflessioni Riguardo questo assetto Una volta dopo montato Un bel car vlog Quindi non esitate A spingere Il tasto Sulla campanellina Attivate le notifiche Mi raccomando Seguitemi Quindi ragazzi Oltre questo Ringrazio ancora Massimo di Lina Originale Che mi supporta sempre E mi aiuta Nella ricerca Di pezzi Vi lascio In descrizione Tutti i link Al sito Alla pagina Instagram E inoltre Vi lascio anche Il solito Codice sconto Del 5% Se non ricordo male E comunque Trovate i dettagli Sempre in descrizione Per questo video È tutto ragazzi Mitch Tuning Vi saluta Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti